Via libera, andiamo. Andiamo dove? A risolvere il caso. Non è già risolto. Sono stanco, la mia relazione è una farsa, i miei amici pensano che io sia un cretino. C'è qualcun altro che vuole infierire su Doc Dugan, eh? Andiamo! Fa male la verità, lo so. È una cosa biologica, il nostro cervello processa il suono più velocemente della luce, ma la luce è più veloce, quindi il cervello muta la realtà per mettere in sincronia il mondo. E questo che c'entra con il resto? C'entra solo quando qualcuno è a 30 metri da noi che possiamo vedere e sentire il suo mondo com'è realmente e quando nel nostro cervello il suono e la luce sono in perfetta armonia. Allora? Nel resto del tempo viviamo in un mondo di bugie, sono le bugie a dare un senso al mondo. Ergo la verità fa male.